Musica San Luca Cansalvo, 38 anni Veronica Bestea, 33 anni Diplomata alla Paolo Grassi Bottega di Gasman, Scuola del Piccolo di Milano Prima esperienze teatrali Le esperienze teatrali più significative le ho fatte con Da tempo maestro io seguo i suoi spettacoli E davvero sono stato folgorato Anna Mantovani mi ha consigliato di fare questo provino Da allora io ho sempre, sempre, sempre sperato di poter lavorare con lei Io cerco anime Per me genere sessuale non conta Io nel prossimo spettacolo mi prefigo di arrivare ad un livello di perfezione scenica Tale che nessuno si domanderà mai un uomo o una donna Privati della parola di fronte all'immensa bellezza pura e splendente Il pubblico piangerà di gioia Va bene, va male, faceva schifo Vi dico qualcosa! L'ansia diventa inquietudine Ossessione Fobia Ma devi deve darci un contegno Se c'erano due parti ci prendevano tutti e due Sai, però ce n'è una sola e poi ci prenderanno me Io ho studiato canto lirico, sono tenore Di quella pira l'orrendo Sì, sappiamo cantare Faccia il regista lei, che io faccio l'attrice Mi diriga Recitare è uscire da se stessi Usare il corpo di un altro Non il proprio Chiedi a me come è andato il tuo provino A me Che sono Elisa per la stessa parte Vorrei vedervi in una scena due Che cosa vi hanno fatto portare? La scena del balcone di Romeo e Giulia Forca puttana ma perché? Ditemi perché? Maia L'industriale Un ignoto Un disperatore Ma chi spende il capitale Ma provarlo Non si può Warnein preis Wachtte avun Warnein preis Nenghi welches Warnein preis